Buongiorno carissimi, bentrovati in questo giovedì della seconda settimana del nostro tempo ordinario. Continuiamo la lettura del primo libro di Samuele, quest'oggi siamo al capitolo diciottesimo dal versetto 6 al versetto 9 per andare a finire al capitolo diciannovesimo i primi sette versetti. Vi invito proprio a leggere per intero, a meditare proprio questa lettura perché si parla di qualcosa che è comune un po' agli uomini, agli esseri umani, e la gelosia. Qui abbiamo il re Saul e Davide che di ritorno dalla spedizione contro i filistei vengono festeggiati, le donne escono fuori con tamburelli, danzano eccetera e dicono ecco Saul ha ucciso i suoi mille e Davide i suoi diecimila. Questo suscita collera gelosia nel cuore di Saul il quale ecco decide di uccidere questo giovane. Dice tanto gli manca soltanto il regno, poi cosa gli può mancare altro, quindi uccidiamolo. Però ecco che la cosa interessante è che la gelosia nasce dal cuore e bisogna comprendere la radice da cui nasce questa gelosia, perché si può eliminare Davide, si può eliminare anche un'altra persona, ma si sarà sempre gelosi di qualcuno e non è togliendo la persona che si guarisce dalla gelosia. E allora ecco interviene Gionata, il quale è figlio di Saul, va da Davide con il quale aveva una vera amicizia e va a dirgli che il padre vuole ucciderlo. Perché lo va a dire? Non perché vuole suscitare nel cuore di Davide odio nei confronti del padre, perché il padre è capace di fare questo. Quindi essendo capace a tutte le carte per poterlo fare, Gionata agisce innanzitutto come primo intervento a tutelare Davide e quindi a salvare una vita innocente. Dopodiché ha il coraggio, e questo è importante, ha il coraggio Gionata di andare dal padre e di farlo riflettere. Non pecchi il re contro il suo servo, contro Davide, che non ha peccato contro di te, che anzi ha fatto cose belle per te. Io chiedo al Signore e chiedetelo anche voi al Signore che ci doni nella nostra vita sempre un Gionata, cioè una persona che abbia il coraggio di venire da noi, di farci scendere un po' dal nostro castello che ci siamo costruiti e di vedere la realtà. Infatti cosa dice? Davide non ha peccato contro di te, anzi ha fatto cose belle per te. Egli ha esposto la vita quando abbatte il Filisteo e il Signore ha concesso una grande salvezza a tutto Israele. Quindi il bene che ha fatto Davide è un bene per tutti, quindi non ha peccato contro di te. Hai visto e hai gioito, perché la vittoria è stata accolta da tutti, anche tu il re l'hai vissuta, no? Dunque, perché pecchi contro un innocente uccidendo Davide senza motivo? Ecco veramente la bellezza di trovare una persona che viene da noi e dice ma che stai a combinare? Ci pone una domanda finale aiutandoci a vedere la realtà e quella domanda dobbiamo rispondere noi, dobbiamo decidere noi. In effetti Saura ascoltò la voce di Gionata e giurò per la vita del Signore non morirà. Ecco la bellezza di saper curare la gelosia. però l'Evangelo di oggi ci presenta, siamo al capitolo terzo di Marco, versetto 7, versetto 12 e c'è questo essere gli spiriti impuri quando vedono Gesù lo riconoscono essere il figlio di Dio. Bene, invochiamo il Signore Gesù come il Salvatore, lui è il figlio di Dio, la nostra salvezza. In effetti il versetto del Vangelo abbiamo detto il Salvatore nostro Gesù Cristo ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Bene, vi auguro così di vivere una buona santa giornata cercando con tutto il cuore di comprendere veramente come poter curare la gelosia. Un abbraccio fraterno ci vediamo domani per il nostro appuntamento.